Ha perso il controllo della moto per un malore ed è andato fuoristrada. È morto così Vincenzo Olivieri, ex primario di ostetrice e ginecologia dell'ospedale di Giulianova. Il governatore Gianni Chiodi annuncia risultati storici sui conti sanitari. Ora ridurremo le tasse. A Teramo sorgeranno altre tre farmacie e probabilmente una quarta al centro commerciale Gran Sasso. Lo ha annunciato il sindaco Maurizio Brucchi. Scongiurata la chiusura della cabinovia dei Prati di Tivo, almeno fino a settembre prossimo. A dare la notizia il presidente della provincia di Teramo, Walter Catarra. Ad Alba Adriatica ci sono oltre 18.500 abitazioni, di cui più di 13.000 seconde case, mentre i residenti sono in totale poco più di 12.500. I dati emergono dall'ultimo censimento. San Nicolò Sant'Egidiese anticipata sabato alle 14.00. Il Teramo a caccia della seconda divisione, domenica a Pesaro. Acea Roma, Banca Tercasteramo, è stata posticipata lunedì alle 20.30 a causa dell'indisponibilità di domenica del Palatiziano. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Buonasera, benvenuti. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Ha perso il controllo della moto per un malore ed è andato fuori strada. E' morto così Vincenzo Olivieri, ex primario di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Giulianova. Il tragico incidente è avvenuto a Bellante Stazione. Il servizio. Incidente mortale questa mattina a Bellante, intorno alle 11.30, nei pressi del centro commerciale Acquaviva. L'ex primario di ginecologia dell'ospedale di Giulianova, Vincenzo Olivieri, 88 anni, era a bordo della sua moto d'epoca di grossa cilindrata e per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare dapprima contro una rete metallica e poi successivamente è caduto in un dirupo. L'uomo è morto sul colpo, non è stato possibile altro che constatare la sua morte ed è stato quindi trasportato all'ospedale di Teramo per eventuali esami autoptici. L'uomo a quanto sembra, in base alle testimonianze di coloro che hanno assistito all'incidente, si sarebbe sentito male. Ha cominciato a zigzagare e poi appunto ha perso il controllo del mezzo. Fermato ad un controllo di polizia a bordo della sua macchina scende dall'abitacolo barcollando e insulta i poliziotti minacciandoli di morte prima di colpirne uno con calci e pugni. E' successo la scorsa notte ad Albadriatica. Pierluigi Fanì, trentenne di Torano Nuovo, è stato calmato non senza difficoltà dagli agenti della Polstrada e sottoposto al test alcolemico che è il risultato molto alto. E' stato arrestato per violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per guida in stato di ebrezza e oltraggio a pubblico ufficiale. PD, PDL, distruttori di territorio affamatori di popolo. E questa è la scritta comparsa la scorsa notte sui muri esterni della sezione del Partito Democratico di Martinsicuro, che anche la sede elettorale della lista di centrosinistra cambiamo insieme con candidato sindaco Andrea Buonaspeme. Gli stessi autori delle scritte, un fantomatico movimento no-tav, hanno poi sabotato l'ingresso della sede elettorale con della colla, rendendo complicato anche l'apertura della porta. Sull'atto vandalico indagano gli agenti della Digos, della Polizia e i carabinieri della stazione di Martinsicuro. E cambiamo argomento, lasciamo la cronaca. A Teramo sorgeranno altre tre farmacie, probabilmente una quarta al centro commerciale Gran Sasso. Lo ha annunciato il sindaco Maurizio Brucchi. Sentiamo. Sindaco, con il decreto Monti Teramo vedrà sorgere altre tre farmacie. Dove verranno ubicate? Verranno farmacie private, quindi verranno messe a bando poi della regione. Ai comuni tocca individuare la sede. Poi c'è un'ulteriore nuova farmacia con un bonus del 5% che sarà un'altra farmacia comunale, oltre alla farmacia comunale che noi avevamo già istituito. Ecco, sindaco, ha tenuto banco per molto tempo la questione della collocazione della farmacia. A Colle Atterrato. Ecco, Colle Atterrato, Villa Pavone. Insomma, questa farmacia comunale, dove verrà ubicata? Negli ultimi tempi ci siamo orientati in una zona che è quella prospicente all'asilo nido, dove ci sono anche tante attività commerciali. Che diciamo è a Colle Atterrato, ma insomma anche molto vicino a Villa Pavone. Ci sembra un'ottima zona perché noi con la farmacia non dobbiamo guadagnare, però la farmacia deve essere ubicata in una zona dove ci sia un reddito. È una delle ipotesi perché adesso bisogna individuare anche proprio fisicamente il locale, il posto fisico, perché va messo all'interno del bando. La regione ci ha dato 60 giorni, quindi dobbiamo anche muoverci. Comunque su questo faremo un incontro, un'aggiunta itinerante con i residenti, così come abbiamo detto, per condividere con loro questo percorso. C'è poi il discorso del bonus. Diciamo la legge prevede che deve essere collocata o in un autogrillo, in un porto, in un centro commerciale o in una stazione ferroviaria. Noi devo dire che siamo abbastanza obbligati in tal senso, quindi alla fine sarà il centro commerciale. Mai l'Abruzzo è stato in avanzo nella spesa sanitaria e mai si è avvicinato così tanto ai livelli essenziali di assistenza richiesti come benchmark dal Ministero. Ora potremmo essere la prima regione italiana a ridurre le tasse, lo ha affermato il Presidente della regione Abruzzo e Commissario ad Acta per la Sanità Gianni Chiodi. Nel corso di una conferenza stampa indetta per illustrare i dati relativi alla certificazione del bilancio 2011 della Sanità che ha fatto registrare un avanzo di 60 milioni di euro e un utile di esercizio pari a 5 milioni. In particolare, per quanto riguarda la questione tasse, il Presidente della regione ha spiegato che a giugno ci sarà il tavolo di monitoraggio e che, se in fase di approvazione dei bilanci delle Asel verranno confermati i dati, potremo ottenere il via libera per ridurle. E sulle dichiarazioni del Governatore di questa mattina c'è la replica di Carlo Costantini dell'Italia dei Valori. Anche oggi Chiodi ha somministrato agli abruzzesi la solita dose di propaganda. Si è appropriato per la centesima volta degli effetti di atti amministrativi e legislativi che risalgono alle precedenti legislature. Ed ha taciuto per la centesima volta tutto il resto, ovvero quello che più conta e più interessa ai cittadini. Così il capogruppo regionale dell'Italia dei Valori, Carlo Costantini, commenta le dichiarazioni del Presidente della Giunta e Commissario per la Sanità, Gianni Chiodi. È vero, infatti, continua Costantini, che mai l'Abruzzo aveva marcato un avanzo nella spesa sanitaria. Ma è ancora più vero che in un contesto nel quale non si possono contrarre nuovi debiti e nel frattempo si è obbligati a restituire, grazie al sacrificio dei contribuenti abruzzesi e senza particolari tagli alla spesa corrente, enormi rate di mutuo, il risultato contabile che si è prodotto era l'unico possibile. Nel senso che, dice l'esponente dell'Italia dei Valori, se al posto di Chiodi ci fosse stato l'ultimo degli usceri della Regione, il risultato sarebbe stato lo stesso. Cambiamo argomento, adesso occupiamoci di turismo montano. È stata scongiurata la chiusura della cabinovia dei Prati di Tivo, almeno fino a settembre del 2012. A dare la notizia il Presidente della provincia di Teramo, Walter Catarra. Sentiamo. Grazie all'intervento della provincia è stata scongiurata la chiusura della cabinovia della San Gritana a Prati di Tivo. Sì, c'era stato un preavviso da parte della San Gritana che aveva deciso di abbandonare la gestione dell'impianto a Prati di Tivo. Per noi sarebbe stata davvero una cosa grave, per noi, per la granzia sotto la mano, ma per il territorio. Questa decisione era scaturita da una serie di questioni che si portano o si trascinano da qualche tempo, incomprensioni, varie questioni, fino a che ho deciso di fare un incontro che mettesse insieme tutti gli attori di questa vicenda, San Gritana, Gran Sasso Teramano, Sindaco di Pietracammela, la provincia di Teramo, la regione Abruzzo e il senatore Tancredi. Insomma, abbiamo discusso, siamo messi a tavolino, abbiamo discusso, alla fine siamo arrivati a concordare di arrivare fino alla fine del contratto con la San Gritana che scadrà nel mese di settembre e quindi per il momento è scongiurato questo pericolo. E poi? Da questo momento in poi bisognerà che si approntino la gara per la prossima gestione, bisognerà farlo in tempi più brevi possibile, naturalmente non prima della scadenza del vecchio contratto, e bisognerà per questo poi in seguito mettere in campo tutto quel piano programma che la provincia di Teramo insieme agli altri attori ha stilato e che prevede il rilancio vero di questo nostro territorio. Ci spostiamo a Giulianova dove i lavori in piazza Buozzi riguardanti il ripristino della pavimentazione per una fascia di circa 600 metri quadrati di estensione subiranno una momentanea interruzione a causa del maltempo previsto per questa settimana, così evitando anche, come già dichiarato, di interferire con le programmate manifestazioni dedicate alla Madonna dello Splendore. I lavori riprenderanno una volta conclusi i festeggiamenti mariani. La provincia di Teramo è leader nella produzione di energia da pannelli fotovoltaici. Vediamo il servizio. La provincia di Teramo può considerarsi leader nella produzione di energia di fotovoltaico. È così? Sì, sì, è proprio così. La provincia di Teramo è sicuramente una provincia verde. Infatti i dati del 2011 che riguardano l'allaccio di impianti fotovoltaici sono assolutamente confortanti. Più di 164 megawatt allacciati in un anno, praticamente il doppio della media delle province italiane. Quindi questo significa che l'opera di sensibilizzazione da parte della provincia in questo delicato settore della nostra economia e del nostro ambiente ha raggiunto i risultati veramente importanti. A conferma di questo anche la presenza di Enel nel territorio della provincia di Teramo che è storicamente presente con i suoi impianti sull'asta del Vomano per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Quindi in questo caso dall'acqua senza l'immissione in atmosfera di alcun tipo di inquinanti e neanche di CO2. Quindi la conferma della vocazione verde della provincia di Teramo. Poi nell'incontro di oggi con il presidente Catara si è parlato anche di possibili sviluppi di progetti da portare avanti in sinergia Enel e provincia di Teramo sia per quanto riguarda l'ulteriore promozione di impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici ma anche di pubblica illuminazione di nuovi impianti a tecnologia avanzata che possono permettere e garantire un risparmio in bolletta che può oscillare dal 30 al 70% rispetto agli impianti tradizionali. Quindi un mondo, quello dell'energia, che va a braccetto con l'ambiente e questa sinergia con la provincia di Teramo sicuramente porterà a dei risultati importanti nell'immediato futuro. Restiamo in tema. L'assessore regionale all'ambiente e all'energia Mauro Di Dalmazio esprime soddisfazione commentando il rapporto 2012 sulle fonti energetiche rinnovabili che colloca l'Abruzzo tra le regioni più virtuose del Paese. Il servizio. I dati forniti da Legambiente al Ministro Clini sulle fonti energetiche rinnovabili confermano quanta strada ha percorso l'Abruzzo sul fronte dell'energia pulita. Così l'assessore all'ambiente e all'energia della regione Mauro Di Dalmazio commenta il rapporto 2012 sulle fonti energetiche rinnovabili che colloca l'Abruzzo tra le regioni più virtuose del Paese. Non è esagerato parlare di Abruzzo come modello di riferimento aggiunge l'assessore Di Dalmazio siamo una regione all'avanguardia che si sta caratterizzando per aver messo in campo una serie di politiche di sviluppo energetico che sono prese ad esempio a livello nazionale ed europeo su tutte la nostra governance sul patto dei sindaci riconosciuta a buona pratica dall'Unione Europea e che più di tutte dà l'idea delle linee innovative che propone l'Abruzzo. Con il patto dei sindaci l'obiettivo della disseminazione su tutto il territorio regionale di casi concreti di efficientamento energetico è stato pienamente raggiunto con l'apertura di 650 cantieri in Abruzzo il cittadino in sostanza vede nel proprio comune piccolo o grande che sia l'adeguamento di un edificio pubblico con parametri di efficientamento energetico non solo, insiste l'assessore siamo regione leader e capofila sull'eolico offshore con il progetto europeo Powered che ha ottenuto peraltro importanti riconoscimenti a livello europeo e nazionale sullo stesso filone dell'energia guidiamo anche un programma che è finalizzato a definire linee per inserire nei bandi pubblici la valutazione dell'efficienza energetica un'attività a tutto campo conclude Di Dalmazio che è anche segnale di una politica sul territorio che sta portando avanti questo governo regionale volevamo il coinvolgimento di tutti su problemi che interessano direttamente il cittadino se i risultati sono questi ci siamo riusciti gli scenari della previdenza in Italia saranno al centro di un seminario organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Teramo in collaborazione con AXA Monte dei Paschi di Siena Assicurazioni che si terrà giovedì prossimo 12 aprile alle 10 nella sala delle lauree della Facoltà Teramana i lavori moderati da Andrea Ciccarelli della Facoltà di Scienze Politiche saranno introdotti dal Preside Enrico Del Colle seguiranno gli interventi di Lucio Di Rosa della Direzione Territoriale del Monte dei Paschi di Siena Mercato di Teramo e Stefano Tremarelli dell'AXA Monte dei Paschi di Siena Assicurazioni Vita S.P.A. Arrivano dalla Regione Abruzzo 1,4 milioni di euro per ampliare e consolidare la dotazione degli asili nido e dei servizi integrati per la prima infanzia e il servizio E' stato pubblicato sul Burat l'avviso pubblico interventi a favore del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia finanziato con 1,4 milioni di euro in attuazione dell'accordo sottoscritto dal Dipartimento Politiche della Famiglia e della Regione Abruzzo L'iniziativa si pone l'obiettivo di proseguire l'azione amministrativa intrapresa dall'assessorato alle politiche sociali per ampliare e consolidare la dotazione di nidi e di servizi integrativi per la prima infanzia per i bambini di età da 0 a 3 anni anche sotto il profilo dei costi di gestione Stiamo attuando un programma articolato di interventi commenta l'assessore competente in materia Paolo Gatti con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta dei servizi per la prima infanzia dall'inizio della legislatura abbiamo investito oltre 4,5 milioni di euro per questi servizi e per azioni di conciliazione tra vita familiare e lavoro delle donne abruzzesi abbiamo costituito il nucleo di coordinamento pedagogico regionale per la prima infanzia e dato una normativa regionale certa al sistema di accreditamento delle strutture basata sulla qualità dell'offerta e sulla professionalità certificata degli operatori colmando un vuoto di regole che persisteva da 11 anni questo ulteriore intervento contribuirà ad attivare nuovi posti presso le strutture educative e affronteggiare l'emergenza rappresentata dalle liste di attesa ma è soprattutto un sostegno per incoraggiare l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro attraverso la conciliazione tra vita lavorativa e familiare sulla prima infanzia abbiamo dunque investito molto in termini di risorse e di energie progettuali per la ridefinizione del sistema vogliamo rendere gli standard dei servizi che si erogano in regione e il sistema complessivo conclude qualitativamente paragonabili alle migliori esperienze nazionali per quanto riguarda l'avviso possono presentare istanza di partecipazione i comuni della regione Abruzzo per entrambe le linee di intervento previste dall'avviso presso la sede di Campli sono aperte le iscrizioni del corso di formazione per volontari della Croce Rossa italiana l'iscrizione è aperta a tutta la cittadinanza il corso non prevede conoscenze pregresse particolari e può essere seguito da chi volesse entrare nel mondo del volontariato che anche da chi avesse semplicemente voglia di conoscere meglio il mondo della Croce Rossa e imparare alcune delle nozioni basi e del primo soccorso l'età minima richiesta è di 14 anni le lezioni si terranno in orario serale tutti i mercoledì e venerdì presso la sede di Campli sita in via del monastero l'inaugurazione del corso è prevista per domani alle 20 e 30 secondo l'associazione Mia Casa d'Abruzzo è necessario approvare una legge regionale quadro in materia di edilizia pubblica residenziale per gli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto del 2009 servizio Mia Casa d'Abruzzo chiede ancora una volta all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale di inserire tra i punti all'ordine del giorno della prossima seduta del 17 aprile la discussione e l'approvazione di una legge regionale quadro che disponga alla realizzazione degli interventi necessari per la ricostruzione e ripristino degli immobili di edilizia pubblica residenziale distrutti o danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e renda possibile l'immediato adeguamento alla normativa antisismica vigente dell'intero patrimonio abitativo pubblico della regione Abruzzo in vista del superamento del regime commissariale la proposta di legge già da tempo elaborata è presentata presso gli uffici regionali competenti scrive mia casa affida alle strutture operative del consiglio regionale medesimo e dell'assessorato regionale all'edilizia residenziale pubblica il compito di promuovere forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli enti locali impegnati nella ricostruzione al fine di favorire il rapido impiego delle risorse e lo svolgimento delle attività amministrative ordinarie e straordinarie per l'autuazione degli interventi e per le attività previste dalla legge quadro si provvede mediante l'istituzione di apposito nuovo capitolo di spesa nel bilancio della regione Abruzzo presso il quale verranno trasferite le risorse già assegnate dal Cipe alla gestione commissariale come previsto dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3.803 del 15 agosto 2009 attraverso la quale lo Stato ha finanziato gli oneri per la riparazione e ricostruzione degli alloggi pubblici valutati in 107 milioni di euro per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell'Ater e in 43 milioni di euro per gli interventi da porre in essere sugli immobili di proprietà dei comuni nell'ambito della ripartizione di somme effettuate in favore della Regione Abruzzo Sono oltre 18.500 le abitazioni presenti ad Albadriatica di cui più di 13.000 sono seconde case e hanno quindi finalità turistica mentre i residenti sono in totale poco più di 12.500 questi dati emergono dall'ultimo censimento il servizio Più case che abitanti Per le località costiere un'equazione di questo genere appare piuttosto scontata ma i dati che riguardano Albadriatica alla luce del recente censimento meritano un piccolo approfondimento è certo perché i numeri del patrimonio immobiliare frutto di uno sviluppo edilizio che ha connotato la spiaggia d'argento negli ultimi lustri sono significativi allo stato attuale infatti sono state censite oltre 18.500 abitazioni mentre i residenti si attestano attorno a 12.500 scorporando il dato complessivo emerge che gli alloggi catalogati come prima casa sono poco più di 5.300 mentre i fabbricati di categoria A civili abitazioni registrati come seconde residenze sono oltre 13.000 quelle che rientrano nella categoria delle seconde case dati del censimento alla mano rappresentano alloggi utilizzati per finalità soprattutto turistiche un patrimonio immobiliare quello delle seconde case che nel corso dell'ultimo decennio è cresciuto molto fermo restando che negli ultimi anni anche il settore immobiliare sente chiaro il peso della crisi economica l'aspetto statistico assume una valenza ancora maggiore se lo si paragona al 2001 anno del precedente censimento ebbene dieci anni prima gli immobili di civili abitazioni presenti ad Alba Adriatica erano circa 10.000 la progressione avvertita dal 2001 al 2011 con 8.000 abitazioni in più non può essere spiegata solo con ulteriore sviluppo edilizio che in ogni caso c'è stato è ipotizzabile che i controlli incrociati abbiano fatto emergere degli appartamenti non ancora censiti così come nell'arco temporale tra un censimento e l'altro parecchi alloggi siano stati accatastati i nuclei familiari censiti ad Alba Adriatica sono quasi identici al numero di prime case circa 5.500 e questo mostra in linea teorica che l'elevata quantità di alloggi è una caratteristica tipica della località turistica anche se la cosa poi presenta anche delle controindicazioni va detto che una tale concentrazione di costruzioni si innesta su un'estensione cittadina di 9,5 chilometri quadrati in provincia di Teramo solo Nereto ha una superficie minore mentre Alba Adriatica si conferma la cittadina nel Teramano con la più alta densità di residenti più di 1.300 abitanti per chilometro quadrato la terza in Abruzzo dopo Pescara e Montesilvano anche quest'anno è arrivato aprile azione antifascista Teramo ha deciso di festeggiare in anticipo l'anniversario della liberazione sabato 14 aprile alla piazzetta del sole a Teramo con musica per i partigiani dal pomeriggio alla notte si legge in una nota di azione antifascista Teramo una giornata di festa al ricordo e in onore delle donne e degli uomini che ci hanno liberato dai nazisti e dai fascisti venerdì venerdì 13 aprile prossimo con una cerimonia a Teramo verranno ricordati i partigiani fucilati a Cartecchio nel 1944 il servizio venerdì 13 aprile verrà celebrata una giornata in ricordo dei partigiani fucilati a Cartecchio il 13 aprile 1944 ecco una giornata molto importante non soltanto per Lampi ma per tutti coloro che vogliono ricordare questo terribile eccidio questa cerimonia serve per ricordare questi ragazzi che furono assassinati presso il cimitero di Cartecchio ma serve soprattutto per trasmettere alle nuove generazioni la storia nostra il contributo dato da Teramo e dall'Abruzzo per la riconquista della democrazia e della libertà sì venerdì 13 aprile alle ore 11 ci sarà l'inaugurazione di una lapide commemorativa in piazza Sant'Agostino una lapide che sarà posta proprio per ricordare questi tre giovani partigiani che furono uccisi il 13 aprile 1944 quindi nel 68esimo anniversario poi a seguire ci sarà l'inaugurazione della mostra dei documenti storici relativi al processo e anche le tre biografie dei tre giovani partigiani mostra che si svolgerà e sarà aperta verso l'archivio di Stato in via Cesare Battisti a Teramo e a seguire le 11.30 un importante convegno storico per ricordare il profilo di questi tre giovani partigiani complimenti all'Ampi con la quale continuiamo a collaborare per tutta una serie di iniziative perché direi per non dimenticare insomma per tenere sempre bene in mente che la democrazia è una grande cosa e anche per raggiungerla sono morte tante tante persone e questo credo che vada comunque ricordato e quindi questa è un'altra occasione per fare questo domani alle 16.30 sarà inaugurata al Museo d'Arte dello Splendore di Giulianova la mostra itinerante su Giovanni Paolo II dopo essere stata ospitata dal 20 marzo al 7 aprile nella sede centrale della Banca di Teramo di Credito Cooperativo la mostra approda ora nella cittadina Riviarasca dopo domani giovedì 12 aprile esiterà un convegno organizzato dall'assessorato al sociale della provincia di Teramo per parlare degli effetti negativi derivanti dal fumo passivo sentiamo tra le numerose iniziative dell'assessorato alle politiche sociali della provincia di Teramo ce n'è anche una che riguarda il fumo e soprattutto il rapporto tra fumo e giovani sì giusto per continuare quel programma che abbiamo fatto all'inizio c'è questo convegno che si terrà giovedì 12 aprile all'ITC Alessandrini dove verrà il primario di chirurgia dorale del professor Crisci e il dottor De Vico che si parlerà degli aspetti nocivi e la patologia del fumo da sigaretta soprattutto sui giovani quindi come prevenirlo e come curarlo è una cosa molto importante che va nel programma che stiamo facendo adesso successivamente ci saranno anche altri convegni sui disturbi della nutrizione sulla corretta alimentazione sui danni del web sui giovani o sulle problematiche relative quindi penso che nonostante quello che si dica della provincia che sparisce o non sparisce l'assessorato continua io e la mia persona a portare avanti il programma che ci siamo prefissati dall'inizio Teramo anticipa tutti con un cast d'eccezione che racchiude il meglio della scena indipendente italiana per l'ennesima imperdibile serata di un evento giunto alla sua ottava edizione parliamo della manifestazione aspettando il primo maggio che si terrà lunedì 30 aprile dalle 18 a notte fonda nel nuovo stadio comunale di Teramo la manifestazione come sempre organizzata dall'associazione culturale Big Match BM Idea e tra gli altri artisti sul palco si esibirà NADA e adesso invece prima della pagina sportiva andiamo a vedere le previsioni del tempo per la giornata di domani con Meteo Teramo punto it previsioni per domani in provincia di Teramo al mattino cieli grigi con precipitazioni sparse su tutto il territorio provinciale neve oltre 1700-1800 metri nelle prime ore del pomeriggio rovesci anche di intensità moderata localmente temporaleschi entro sera attenuazione dei fenomeni a partire dai settori montani e collinari fino a rasserenamenti estesi in ottata temperature in lieve aumento massime comprese tra 16 e 19 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 15 e 18 gradi sulle coste venti inizialmente moderati orientali tendenti a provenire da sud-ovest in ottata adriatico poco mosso e siamo allo sport iniziamo con il calcio dopo la sconfitta a Chieti il Giulia Nova ospita domenica a il Fondi allo stadio Fadini sarà una gara importante in ottica salvezza per i giallorossi contro una formazione che li precede in classifica di 4 punti e adesso la serie di calcio San Nicolò Sant'Egidiese sarà l'anticipo della 31esima giornata di campionato la gara verrà giocata sabato alle 14 per consentire la diretta sul Rai Sport 1 dopo la prima sconfitta casalinga contro il Trivento il Teramo sarà invece di scena a Pesaro contro una squadra che ha bisogno di punti per evitare la zona play out ma vediamo il servizio la sconfitta con l'atletico Trivento non ha lasciato scorie il primo stop casalingo della stagione ha solo apposticipato il momento della festa per il Teramo che potrebbe tagliare anche sul piano aritmetico il traguardo del ritorno delle professionisti già domenica prossima sul campo della Vispesaro una giornata storta ci può stare quando poi capita di assommare una serie di disattenzioni difensive al cospetto di una squadra in grande forma a Piano Dacci i molisani hanno incassato l'ottavo successo consecutivo tutto diventa più complicato in ogni caso la squadra di Cappellacci ha già focalizzato il prossimo obiettivo la trasferta di domenica prossima a Pesaro il diavolo continua ad avere un vantaggio ampio sull'inseguitrici 8 punti sulla Civitanovese e 9 sulla coppia Ancona-San Benedettese per chiudere immediatamente la pratica campionato i biancorossi dovranno vincere domenica e sperare che le inseguitrici non facciano altrettanto se questo non dovesse accadere poi bisognerà attendere la domenica successiva quando a Piano Dacci arriverà il Riccione è solo questione di tempo dunque ma conoscendo lo zelo di Cappellacci è ipotizzabile che la squadra voglia reagire immediatamente dopo la prima sconfitta interna del campionato il turno prepasquale al contrario è stato decisamente propizio per San Nicolò capace di fermare la Samb e per la Sant'Egidiese che si è rimessa in corsa per la salvezza diretta la squadra di Calabrese ormai salva manca solo l'avallo dell'aritmetica mentre i giallorossi di Fontana devono necessariamente fare punti lontano da casa se vogliono evitare gli spareggi salvezza un passaggio chiave soprattutto per il futuro della Santa è racchiuso nel derby in programma sabato prossimo a Piano Daccio quando San Nicolò e Sant'Egidiese saranno di fronte nell'anticipo in diretta televisiva su Rai Sport 1 a partire dalle ore 14 i biancazzurri vogliono proseguire nel loro momento propizio mentre i giallorossi devono invertire la tendenza visto che in stagione lontano da casa hanno raccolto appena 5 punti e adesso il basket la gara tra la CEA Roma e la Banca Tercas Teramo è stata posticipata lunedì sera alle 20.30 domenica il palatiziano sarà infatti indisponibile a causa della disputa della semifinale playoff di pallavolo tra Latina e Trento il giudice sportivo ha intanto multato Teramo con un'ammenda di 1000 euro per offese del pubblico agli arbitri durante l'ultima gara contro Caserta noi facciamo il punto sull'ultima giornata di campionato con il servizio senza stipendi senza certezze future senza due stranieri ma con in mano una bella fetta di salvezza sul campo dopo la gara contro Caserta Teramo doveva approfittare della sconfitta di Casale a Cantù e lo ha fatto prendendosi due punti importanti e sapendo vincere una gara che in altri tempi forse avrebbe perso quando infatti la 8 è tornata avanti di due punti a poco più di un minuto dalla fine la scuola di Ramaglia ha messo in campo tutta la concretezza per vincere la partita concretezza che vuol dire sangue freddo di Fultz e di Brown decisivi dall'arco la Casale vista a Cantù senza Shakur può obiettivamente fare poco la Bennett ha faticato per tre quarti poi nell'ultimo periodo ha dilagato Casale per salvarsi cosa che ovviamente speriamo non faccia dovrà cercare altri varianti allo schema palla Ricky Minard o David Chiotti nella speranza che inventino qualcosa Siene ha riposato in quest'ultimo turno nel campionato spezzatino giocato in quattro giorni tra anticipi e posticipi campionato che tornerà giovedì sera quando la stessa Menzana e Cantù recupereranno la nonna giornata sarà un match d'alta classifica con la Bennett staccata di una sola vittoria dalla vetta nel gruppone delle terze vincono Milano Venezia Sassari e Pesaro l'Olimpia è piegato a Pasqua a Montegranaro a termine di una gara aperta fino all'ultimo Carriolo ringrazia Fozis e Borussis e dà il benvenuto a Simons alla 29enne con cui Milano esaurisce i tesseramenti nella corsa frenetica a rincorrere Siena a suon d'ingaggi Pesaro è invece spazzato via Cremona grazie anche a Dullideca da 20 punti la scuola di Caglia rimane così a quota 20 punti in classifica perdendo la gara già a metà primo quarto quando Pesaro vola via anche Venezia giuisce contro Bologna merito dei 31 punti messi a segno nel solo ultimo quarto a fronte di un secondo periodo da dimenticare con solo due canestri Finelli e Di Suoi pagano la giornata no dei lunghi a canestro Sassari invece trionfa contro Treviso mentre Biella riesce a sprecare un vantaggio di 14 punti ad 8 minuti dal termine della gara contro Varese Goss superstar tra la squadra dei calcati mentre Roma approfitta dell'assenza di Linton Johnson per battere Avellino e continuare la rincorsa playoff Restiamo al basket e torniamo alla partita vinta dal Banca Ter Castermo contro la Otto Caserta una vittoria davvero fondamentale in chiave salvezza e andiamo ad ascoltare la soddisfazione di Cocce Ramagli Allora commento presto fatto era una partita molto diversa dalle tre che l'hanno preceduta perché nelle tre gare che abbiamo giocato diciamo nel recente passato avevamo zero pressione sulla testa e soltanto qualcosa da guadagnare in tutte e tre le partite abbiamo giocato una buona balacanestro da queste tre gare abbiamo spremuto una vittoria una gran partita in casa con Cantù e una partita discreta a Pesaro stasera invece c'era la pressione sulla nostra testa sapevamo di avere in mano la possibilità di allungare sui nostri avversari che ieri sera hanno perso a Cantù e quindi c'era grande pressione e di solito in queste partite qua giochi male secondo me noi abbiamo giocato bene soprattutto i primi due quarti veramente bene in attacco testimonianza sono i 22 assist con cui abbiamo finito la gara ma non abbiamo mai trovato secondo me la come posso dire la cattiveria giusta per chiudere la partita con dei possessi difensivi di qualità ne facevamo uno due tre in fila e poi ci rilassavamo e questo ha fatto sì che i nostri avversari rimanessero sempre attaccati questa poi è una squadra di qualità che sa fare canestro e non è un caso che quando loro hanno un po' cambiato la faccia della loro difesa soprattutto grazie all'ingresso di Dornecamp noi abbiamo fatto più fatica a segnare e difensivamente quelle lacune che avevamo mostrato nel corso della prima metà della partita l'abbiamo fatta vedere anche nella seconda metà fortuna è stata e bravura che lì quando giochi sul filo dei possessi ci vogliono anche un po' di attributi e direi che li abbiamo messi facendo due canesti molto importanti che hanno rispaccato la gara e l'hanno fatta definitivamente arrivare nella nostra tasca direi per la pressione che c'era una prestazione molto positiva la vittoria chiaramente è quanto di meglio ci si potesse aspettare per trascorrere la Pasqua però ci sono anche tanti meriti dei nostri avversari che hanno giocato una partita orgogliosa quindi onore al merito anche a chi va via sconfitto da questo campo Bene vi ricordo che alle 21 questa sera torna l'appuntamento con Basket & Basket tra gli ospiti l'ospite della banca Tercasteramo il giovane Achille Polonare che è stato davvero bravissimo domenica contro Caserta dunque ci vediamo alle 21 E adesso la palla a mano tornano in campo sabato Lidercop e Tecnoelettronica la squadra di Serafino la Brecciosa sarà impegnata a Salerno per l'ultimo turno della Pullo Scudetto la Lidercop è già certa del primo posto in classifica la Tecnoelettronica sarà invece impegnata a Bolzano per l'andata di gara 1 dei playoff Scudetto per la squadra di Fonti sarà un compito proibitivo contro la prima classificata della stagione regolare vi ricordo gli appuntamenti di stasera su Teleponte come avete sentito tra breve Basket & Basket poi alle 22.30 all'edizione della notte del nostro notiziario e alle 23.30 circa potrete seguire la differita della gara di Basket tra Teramo e Caserta vi ricordo ancora che potete seguirci sempre in diretta in differita sulla nostra web tv all'indirizzo www.teleponte.it e con questo è tutto grazie per l'attenzione buona serata grazie arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.